Buongiorno a tutti, mercoledì 21 giugno si apre una tre giorni davvero importante secondo me per i mercati azionari europei, è vero che voi potreste obiettare sul fatto che non ci siano dati macro così importanti, anche oggi probabilmente l'unico dato importante è quello che riguarda l'inflazione in UK che come abbiamo già detto tante volte ormai, soprattutto dopo Brexit, condiziona davvero poco i listini europei e ancora di meno quelli americani. Però perché allora vi sto dicendo che sono importanti le prossime sedute per l'indice europei, perché a differenza di quelli americani hanno iniziato una correzione di breve periodo che se dovesse proseguire rischia di minare il quadro tecnico decisamente positivo che abbiamo avuto sostanzialmente fino alla chiusura settimanale di venerdì. In particolare il DAX è andato la settimana scorsa a fare nuovi massimi storici e noi abbiamo provato a rompere dei livelli così importanti che per trovarne di superiori dobbiamo addirittura tornare indietro al 2008. Quindi in questa fase bisogna essere assolutamente prudenti, ancora più del solito perché, a meno di rarissime eccezioni, i breakout sono estremamente rischiosi perché, come ha dimostrato il mercato nelle ultime due sedute, è molto facile che i titoli possano tornare indietro in maniera anche significativa. A livello più generale, come vi ho già detto, continua questa dicotomia tra il Fuzzimib e gli altri segmenti di mercato come Midcap, Star e Growth, acquita anche dal continuo latitare dei volumi sui titoli al di fuori del Fuzzimib. Questo significa che purtroppo anche qui dovremmo verificare tante situazioni, io tutte le sere cerco di farvene vedere qualche d'una, relative ad aziende che continuano a fare minimi su minimi, mi viene in mente meglio questo, a fronte di dati di bilancio comunque non così disprezzabili, per cui i casi sono due o c'è qualcosa che non va nel mercato dei titoli sottili ed è quello per cui propendo io, o bisogna veramente mettere in discussione alcuni bilanci. Come sapete alcuni, io mi sono sempre schierato, mi hanno sempre fornito alcuni dubbi sulla loro veridicità perché non si spiegherebbero altrimenti certi prezzi. Però manteniamo la calma, cominciamo come al solito la nostra analisi dagli indici americani che come vi ho detto sono in una situazione abbastanza diversa perché se consideriamo che il più debole è il Dow Jones, tutto sommato anche ieri fa comunque un ammerino dopo un minimo intraday a 33.915 andando a chiudere a 34.053. Credo che per le prossime sedute dovremo tenere conto di questo 33.783 che vi ho già detto e poi della media mobile a 50 è 33.604. Diciamo che non vedo al momento la possibilità di superare i massimi di periodo di 34.588 ma difficilmente vedo il Dow sotto 33.604. Standard & Poor's ancora meglio perché ricordiamo come 2023 si sia dimostrato anno opposto al 2022 con Nasdaq soprattutto ma anche Standard & Poor's decisamente sovraperformante rispetto al Dow Jones. In questo caso il minimo di ieri pur essendo stato abbastanza profondo 4.367 ma poi ha chiuso a 4.388 non è andato sotto il 4.362 che è il livello chiave di breve. Sotto avremo un 4.337 e poi area 4.300. Diciamo che se anche ci fosse una correzione fino in area 4.300 non sarebbe uno scandalo. Nasdaq in questo caso dopo la brutta seduta di lunedì sta andando a cercarsi il supporto più importante per il breve periodo. Questo è il Nasdaq Composite che è il 13.456 sotto avremo 13.302, 13.229 e poi 13.089. Guardiamo anche il Nasdaq 100, che in questo caso è probabilmente il paniere più forte di tutto il mondo quantomeno occidentale, 14.770 il livello chiave per il breve, sotto 4.671 4.487 e poi 4.314 14.284. Considerazione sui indici americani. Come vi ho già detto per il Dow non credo adesso che avremo la possibilità di nuovi massimi di breve periodo, però allo stesso tempo le correzioni che possono iniziare sono assolutamente fisiologiche e non dovrebbero estendersi oltre i livelli che vi ho detto perché fondamentalmente sono movimenti di consolidamento per scaricare l'ipercomprato. Dax, vedete il Dax purtroppo dopo aver fatto massimo storico venerdì ha iniziato una fase di correzione già abbastanza pronunciata perché dal massimo storico di 16.427 ieri siamo andati a 16.069, ma quello che preoccupa è che la possibilità di ulteriori ribassi è abbastanza concreta fino almeno a 15.945 e poi abbiamo quest'area di supporto poco sopra 15.900. eventualmente potrebbe estendersi questa correzione a 15.735 15.629. Per quanto riguarda il CAC invece la forza relativa dell'ultimo periodo è stata sicuramente inferiore dopo il massimo del 19 di maggio a 7.523 e addirittura quello storico del 24 di aprile a 7.501, vedete questi massimi decrescenti e in questo caso per le prossime sedute avremo 7.246, 7.244 e poi probabilmente 7.171. euro stocks anche qui l'impressione che possa proseguire nella fase solo comunque consolidamenti di correzione 4.316 4.291 alla media mobile a 104.279 euro stocks banks altra candela di indecisione una sorta di doji in questo caso siamo nelle ultime cinque sedute in un range strettissimo 103.34 106.25 Futsimil futures vedete che sta lateralizzando sui massimi di periodo vi ho già detto che il livello chiave per il breve è secondo me 27.555 potremmo estendere la 27.540 sotto abbiamo tutta una serie di minimi 27.365 27.240 e poi qui c'è la media mobile a 50 a 27.115 sintesi sugli indici europei non ancora nulla di preoccupante però sicuramente meno prestazionali meno performanti rispetto agli indici americani e sarebbe importante che non venissero persi dei livelli chiave per il breve per noi diciamo 27.540 perché perché si allontanerebbe di molto la possibilità in questo caso di andare a fare nuovi massimi diamo uno sguardo ai futures vediamo che quegli americani sono moderatamente negativi meno 0.04 il Dow meno 0.05 lo standard in pur 500 meno 0.08 il Nasdaq 100 meno 0.09 il Russell 2000 il DAX più 0.10 l'Eurostox è sulla parità in Asia rimbalzo del Nikkei più 1.40 Topix più 0.26 Hang Seng meno 1.71 Singapore più 0.11 Cospi meno 0.81 dati macro vi avevo già anticipato come oggi il calendario fosse piuttosto povero è uscito proprio adesso il dato sull'inflazione in UK e devo dire che purtroppo è un dato piuttosto negativo perché l'inflazione era attesa in calo all'8,4 per cento e invece è uscito all'8,7 quella annuale quella mensile era attesa in calo allo 0,5 per cento e uscita allo 0,7 quindi purtroppo almeno nel continente europeo l'inflazione anche se UK ormai è una realtà a parte non è così sotto controllo poi vedete che non c'è nulla di significativo in tutto il giorno e direi che al di là di qualche dato alle 14.30 del Canada che però come vi ho già spiegato tante volte è più o meno come per i dati UK non condiziona le borse europee e nemmeno la borsa statunitense c'è la testimonianza di Powell ecco questa probabilmente potrebbe essere un po' il market mover dopo l'apertura dei mercati azionari americani perché è prevista alle 16.00. Dedichiamoci alle notizie price sensitive abbiamo Pirelli che ieri vi ho già fatto vedere nel video di riepilogo serale Hammer dopo un minimo a 4,42,1 chiusura a 4,49 ma titolo che deve ancora dimostrare di aver trovato una sua base potrebbe trovarla a 4,38 e 6 come dover andare a 4,23,8 che è il minimo del 20 di marzo le notizie sono quelle che vi ho già riferito ovvero che c'è stata ci sono state dimissioni di Giorgio Bruno che era il CEO di Pirelli Camping Holding controllato da Marco Trocetti Provera indicherà Andrea Casalucci come futuro CEO della società lo dice una nota dell'holding che ufficializza che Giorgio Bruno oggi deputissimo e in precedenza designato come CEO della società di pneumatici lascerà il gruppo per intraprendere un proprio percorso professionale poi abbiamo Unicredit anche qui ieri ha fatto il doppio massimo a 20,05 quello del 20 di aprile era fatto 20,065 il titolo lasciatemelo dire è un po' drogato dal buyback mostruoso da parte della società ha comprato mi pare il 5,7 per cento del capitale ieri tra l'altro le dichiarazioni di Orsel hanno ulteriormente alimentato gli acquisti può continuare a remunerare gli investitori a ritmo attuale per almeno altri due anni a termini dei quali dovrà valutare la convenienza relativa di continuare ad acquistare il titolo alla luce dei multipli di mercato mi sembra che siano come al solito dichiarazioni troppo ottimistiche perché non so quanto può ancora comprare magari se lo sapete nei commenti quanto del piano di buyback la società ha già portato a compimento e quanto resta ancora vi ho già fatto vedere su time frame settimanale ieri sera il target è 20,71 non sono ancora riuscito a leggerle magari di solito escono adesso le immatricolazioni nei paesi UE, EFTA e in Gran Bretagna maggio le diffonde la CEA che non è la CEA di Roma vediamo io ieri come vi ho già detto ho tenuto Stellantis però ha chiuso sul supporto perché vedete 15,374 chiusura 15,38 però oggi se dovesse perdere anche la media mobile a 50 15,275 probabilmente sarò venditore del titolo poi si parla di Brembo che tra l'altro vuole spostare la sede legale in Olanda il CDA ha deliberato di proporre l'assemblea dei soci il 27 luglio il trasferimento della sede legale ad Amsterdam mentre quella fiscale resterà in Italia le azioni restano quotate su Euronext Milano meno male che almeno la quotazione rimarrà in Italia comunque dopo questo bellissimo breakout del 13 di giugno il titolo ha stranamente devo dire intrapeso la via della correzione a questo punto potrebbe tornare fino in area 14 o poco sotto dove transita la media mobile a 50 e poi a 13,68 c'è anche la media mobile a 100 concludiamo con Buzzi della quale ci occupiamo poco perché è uscita qualche mese fa dal Fuzzimib per cui diventa un po' più difficile occuparsi se ne è raggiunto un accordo per la cessione su attività in Ucraina nel ramo di calcestrutto confezionato di Slovacchia orientale per 100 milioni di euro completamento della transazione previsto nel 2024 io questa fase sinceramente la vedo più come a rischio distribuzione anche ieri ha fatto un minimo abbastanza profondo 22,08 poi è riuscito a chiudere a 22,48 quasi con una Dragonfly recuperando la media mobile a 50 che è 22,32 il livello chiave ovviamente che non deve perdere nel breve è 21,36 perché altrimenti si aprirebbe lo spazio di una correzione piuttosto significativa almeno fino a 20,53 però al momento l'ipotesi più probabile è un trading range direi tra la media mobile a 100,21 e 97 e 23,16 ultima nota perché comunque è un'azienda che fa ritorno in borsa dopo direi più di dieci anni un'azienda molto importante del settore nautico in Italia Borsa Italiana ha disposto la missione delle azioni ordinarie di Ferretti all'Euronext Milano il titolo è ancora quotato alla borsa di Hong Kong quindi Ferretti sarà in borsa tra pochi giorni e ovviamente seguiremo poi l'andamento non appena si sarà quotato per questa mattina ho concluso auguro buon trading a tutti e noi ci aggiorniamo dopo la chiusura del mercato diurno grazie grazie grazie